Benvenuti ragazzi, benvenuti qui su un nuovo video, sono eserciti su un quadro di rinviche Genoa 1, Cagliari 1, Serie A Allora, Genoa, Siamo a me, ha giocato bene più nel secondo tempo Cagliari che ha giocato meglio nel primo Gol di Gonzalo, cavoletti di piede, strano E gol di 1 a 1 di Sanabria, sul calcio di tricore Che non so se ha segnato Sanabria oppure non lo so Ci vediamo dopo con Sassuolo Roma In bocca al lupo Gabbo Ciao Gabbo